A questo proposito vi voglio raccontare una cosa. Mi ricordo una volta suonavamo a Bruxelles e il giorno dopo suonavamo a Ligi. Allora per ridere io a Bruxelles non so perché, ma insomma ho detto ma a me nessuna donna tira sul palco reggisemi. Bene, fin, bisogna interire. Il giorno dopo andiamo a Liege. A un certo punto avviene un lancio di reggisena mutandina con ancora sul cartellino del palco. Grazie. 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 Nel mio Dio 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 Sui sassi E piedi si ferite Piangendo di nascosto da un giro Affrontare il mondo Da piedi non si furono E dall'alto a stilarlo E' il resto di sorpresa non è più che abbia nunca più distesa, non sia niente. E' il resto di sorpresa non è più che abbia nunca più distesa. E' il resto di sorpresa non è più che abbia nunca più distesa.